Emilia Romagna, zona arancione scuro per alcuni territori in cui l'attività didattica si svolgerà esclusivamente a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, città metropolitana di Bologna, comuni della Ausl Romagna, esclusi quelli del distretto di Forlì e quindi quelli delle province di Rimini e Ravenna e del Cesenate. Grazie a tutti.